Benvenuti in Bottos. Oggi vi raccontiamo una storia. No, non è una storia sul caffè, è una storia sui nostri uomini, il nostro patrimonio rappresentativo sul territorio. Qualità e Conquista è il titolo di una serie di eventi personalizzati dedicati alla nostra forza vendita, attraverso aree e tematiche diverse. 1. Analisi e futuro del territorio con Marco Sirelli e Federico Consiglio. 2. Promozioni estive e acquisizione clienti con Pierpaolo Colossi. 3. Formazione tecnica con Federico Tuverga. 4. Marketing con Michele Stefanuto. Bottos ha ancora una volta aperto le porte ai propri agenti di vendita per accompagnarli in un viaggio fatto di rettifiche e allineamento con presentazioni personalizzate, discussioni e tematiche, confronto, lettura dei numeri, obiettivi di crescita, consolidamento del fatturato, approfondimenti tecnici, acquisizione di nuovi clienti. 5. Un viaggio incentrato sull'incentivare l'eccellenza, la fidabilità, la puntualità, che contraddistingue la visione Bottos dedicata alle più disparate esigenze del cliente, protagonista di ogni processo aziendale. Ovviamente non sono mancati momenti diciamo così goliardici, in cui ci si è potuti dedicare a un brindisi propiziatorio. La cosa più bella è stata però per noi condividere i corridoi dell'azienda con persone di estremo valore, che di norma percorrono in lungo e in largo il nostro fantastico territorio nazionale. Il 17 maggio, in occasione di Demo Green Mediterraneo, il presidente Federico Consiglio, il vicepresidente Federico Tuberga, il responsabile Italia Forza Veneta Marco Assirelli e il responsabile marketing Michele Stefanuto si sono spostati in Puglia, dove è stato possibile incontrare faccia a faccia anche il team rappresentativo Bottos Puglia e Calabria. Rientrati in azienda, il giorno seguente abbiamo incontrato invece i nostri uomini geolocalizzatamente più vicini, rappresentativi di Veneto e Friuli. Per una chiusura coi fiocchi e un rilancio di tutte le sfide per il futuro del mercato del tappeto erboso. Siamo felici di aver intrapreso ancora una volta un viaggio così speciale, con i nostri uomini fidati, la nostra faccia in tutta Italia e oltre. E non vediamo l'ora di rincontrarci per la prossima avventura professionale.